Per ora è top secret il contenuto delle lettere che sono state sequestrate all'unico vero sospettato del delitto Mazza, e cioè Romano Bisceglia. Per l'accusa le lettere inviate dall'uomo all'attuale compagna, che ripetiamo rinchiusa presso il carcere di Napoli, potrebbero essere un indizio chiave per le indagini. L'uomo però continua a proclamarsi innocente, respingendo le accuse di aver strangolato e fatto a pezzi la donna. Gli inquirenti continuano a lavorare alla ricerca dell'arma, un'arma ancora non ritrovata ed è per questo che dopo circa quattro mesi i carabinieri sono tornati nuovamente presso la casa del sospettato a Teramo, in via Tordino, per confiscare tutti i coltelli presenti nell'abitazione, per far analizzare dopo le relazioni redatta da Vittorio Fineschi, perito nominale del procuratore Gabriele Ferretti e dal sostituto Roberta Davoglio. Sulla relazione sono state smentite le voci che per fare a pezzi la donna si sia usata una sega, infatti dopo l'analisi svolta risulta che l'arma usata sia un'arma a doppio taglio con punta ed è per questo la decisione di sequestrare gli ultimi coltelli rimasti nella casa del sospettato, visto che nei mesi passati erano stati confiscati solo alcuni coltelli. In carcere dal 12 aprile scorso continua ad essere lui per la procura dell'assassino della donna, visto che i risultati dei liste sul suo prologo fatta a casa Ibicelli, proprio il giorno del suo arresto, portano alla scoperta di tracce di sangue corrispondenti alla donna. Sono passati molti mesi da quando il corpo di Adele Mazza fu ritrovato mutilato in via Franchi a Teramo e dopo tutto questo tempo ancora non si riesce a dare pace all'anima della povera donna. Grazie a tutti.